Il mio pranzo Il mio pranzo Come di donna generosa non ce n'è Rubo l'amore in piazza grande E meno male che briganti come me Non ce n'è A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io Avrei bisogno di pregare Dio E' bravo raga E' bravissimo Non la cambierò mai mai A modo mio Perché sono L'ho voluto io Nessuno è bianche Per coprirci non ne ho Sotto le stelle in piazza grande E se la vita non ha sogno E te li do Se oggi sarà un certo come me Non è morire in piazza grande E anche Gigi Sei che ti chiede Non è padrone come me Vai Attorno a me Sei contenta? Sei contenta? Amore mio ti voglio appena da sempre Eccoci Grazie Ciao Vieni avanti Vieni Sei contenta? No Hai visto? Ci hanno fatto penare fino alla fine Sono girati proprio da ultimo Come ti chiami? Come ti chiami? Allora io mi chiamo Antonello Tonna Ho 71 anni e vengo da Catania Ciliale Mi piace Trezza, Cicastello Conosciamo bene La Sicilia La Sicilia Poi faccio il piano bar dall'ottanta Ho iniziato appunto nel periodo bello Della musica dal vivo Ho girato tantissimo Ho fatto Navi da Crociera Ho fatto Germania, Montecallo, Capri Taormina e Casa Mia Ah vedi è tutto un giro ecco Sì tutto un giro Però io vorrei raccontare anche una cosa Come no? Non è né una sbiolinata Non è realtà È verità Io ero sulla costa Concordia L'isola del Giglio? Sì sì Ah E perché ti dico questo? Dico questo perché la musica mi è stata d'aiuto Per salvarmi mi sono dovuto buttare a mare Quando mi son buttato Ho notato piano piano Mi ripetevo fra me e me Devo stare calmo, devo stare calmo Però mentre notavo Un fatto pazzesco che mi è successo Mi è venuto in mente l'episodio in blu di Gershwin Che avevo suonato prima E questo mi ha dato Diciamo Mi ha rasserenato Perché di che notavo piano piano Ho notato ancora più lentamente E ho raggiunto l'isola del Giglio E mi sono salvato Bravo Che storia incredibile Guarda grazie per aver raccontato questa storia Che è importantissimo Sì E quindi adesso apprezzo la vita Ancora di più Ancora di più Sei una persona positiva Esatto Allora è arrivato il momento delle nostre ringhe Chi parte? Prego Antonello Bello Che vuoi fare? Scegli tu con la tua positività e il tuo intuito E sicuramente fare la scelta giusta Allora Io te lo dico in catanese Allora Sì Imbare è mortale Imbare Imbare Allora Imbare Camaffare Imbare che è Clementino E che c'ho il tagguaggio di Catania Quindi Sono uno che ha fatto l'animatore da tanti anni Quindi dovresti scegliere uno che È un tuo collega Non pianista Che collega pianista ce l'abbiamo qua Ma collega intrattenitore No invece ti volevo dire una cosa Sì A me Ci ho messo un po' di tempo per girarmi Ti parlo di me Perché ci ho messo tempo a girarmi? Sì Perché all'inizio ho sentito uno che voleva imitare Lucio Dalla Poi dopo ti sei un po' ripreso Quindi però ho detto Però qua c'è del mestiere E mi sono girarmi Adesso vediamo chi c'è Secondo voi avete idea Gigi D'Alessio Allora io vi stimo molto musicalmente Professionalmente Ma io quest'estate Sono stato al concerto di Gigi a Taormina Insieme alla mia carissima amica Rosa Maria Ciao Rosa Maria Ciao Mi è piaciuta molto la sua spontaneità La sua musicalità E quindi vorrei scegliere lui Ehi tu Ti è piaciuto questo video? Allora iscriviti al canale di The Voice Per vederne tanti altri Un salutone Ciao a you Allora iscriviti al canale di The Voice